set assolutamente si è un twin set poi adesso veramente a parte che andare in ufficio si va in ufficio così sei comoda hai un tessuto morbidissimo addosso è un tessuto che guarda a me piace anche quando si stropiccia anche un pochino a parte che si fa presto una svaporata ma mi piace anche quando è un po usato tra virgolette io l'ho portato con me in ufficio eccetera però alla fine il mio che continuano dei miei colleghi ma guarda che è bello quel completo vuol dire che andava bene così no quindi vedi anche questo top messo dentro il giro manica importantissimo perché il giro manica di molti top è il punto veramente un po nero no nel senso quello che non è troppo largo non è troppo largo non è troppo purtroppo si trovano i top anche sicuramente a meno però sono poi strettissimi arrivi a casa dice mo che me ne faccio di questa cosa e se no tra l'altro ha la spallina giusta anche per poter indossare il proprio reggiseno senza che che si veda sai che questo colore non è nella mia palette di comfort zone eppure indossato ti dà una bella luce e dar l'idea proprio ricercato un po come quella sensazione del cappotto cammello no che ti dà quella sensazione di lusso e quindi in effetti se stai in un ambiente ancora bello caldo e hai bisogno di toglierti la giacca perché questo è perfetto e guarda può sostituire benissimo quell'intimo che poi voglio dire se non lo puoi far vedere perché rimane intimo le canotte strane e invece questo poi